Il nuovo centrodestra diserta la seduta in assemblea per l'approvazione dei debiti fuori bilancio e del rendiconto generale della regione. Gli interventi, problema politico da affrontare. Gero Micichè. A un anno dalle prossime elezioni regionali, a meno che non si svolgano come probabile insieme alle politiche nella primavera del 2018, scricchiola la maggioranza di centro-sinistra e i contrasti sono di natura politica, manifestati nel corso di un'occasione amministrativa, quale è stata l'approvazione dei debiti fuori bilancio e del rendiconto generale della regione all'assemblea regionale. Il tutto è stato approvato, ma certificando in aula la spaccatura nella coalizione di governo, perché il nuovo centrodestra ha disertato Saladercole in segno di protesta, almeno così si ritiene, contro il piano della formazione professionale, allorché sarebbero stati penalizzati alcuni enti di formazione storici. Pertanto la delibera sui debiti fuori bilancio per 132 milioni di euro è stata votata all'ottavo tentativo da 43 deputati presenti, con 25 favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti. Le non buone condizioni di salute del rapporto tra l'NCD di Alfano e il Partito Democratico sono state testimoniate dall'assessore all'economia Alessandro Baccei, che è intervenuto prima del voto e ha invitato i parlamentari al senso di responsabilità, ammettendo problemi all'interno della maggioranza e dunque rivolgendosi alle opposizioni, che poi effettivamente, come Forza Italia, hanno accolto l'appello e sono rimasti in aula, garantendo il numero legale e consentendo il semaforo verde anche al rendiconto, approvato con 31 voti favorevoli, 11 contrari e 11 astenuti. E non mancano i commenti su quanto accade. Il capogruppo dell'Udc, Mimmo Turano, afferma ripetuti comportamenti irresponsabili di forze politiche e di singoli parlamentari della maggioranza aprono un problema politico e di credibilità non indifferente, che andrà affrontato quanto prima nelle sedi opportune. E la capogruppo del Partito Democratico, Alice Anselmo, ribatte è evidente che i problemi emersi in questa fase all'interno della maggioranza devono essere affrontati e superati in vista dell'esame, dell'assestamento e della manovra economica. Il PD farà la propria parte fino in fondo, come ha sempre fatto. In Sicilia troppe categorie e troppe emergenze hanno bisogno di risposte che non possono essere posticipate. Poi il Movimento 5 Stelle, maggioranza inconsistente e forse Italia, maggioranza ormai armata Brancaleone.